La Libia è molto pericolosa. Noi siamo molto felici di venire qui da Sousa, di aver visto la Sea-Watch che ci ha salvato dal mare per arrivare in sud Italia. Hassan ha 22 anni, viene dal Sudan e uno dei 232 migranti che stamani sono sbarcati al porto di Reggio Calabria. La Sea-Watch 3, nave della ONG tedesca battente e bandiera olandese, li ha salvati nel canale di Sicilia. A bordo c'erano 215 uomini, 17 donne di cui una incinta. Un ragazzo è disabile e 29 sono i minori non accompagnati. Un dodicenne è stato già assegnato in custodia ad una struttura. Vengono dall'Eritrea, Nigeria, Gambia, Mali, Sudan, solo per citare alcuni stati e tutti sono partiti più di quattro giorni fa dalla Libia. Uno di loro pare sia morto durante la navigazione. Gli uomini della questura sono al lavoro per comprendere la dinamica e soprattutto per individuare gli eventuali scafisti. Lo sbarco di oggi a Reggio Calabria è il primo di una nave ONG da quando Matteo Salvini si è insediato come ministro dell'interno. I migranti sono stati salvati nel corso di due distinte operazioni di soccorso e la Sea-Watch è stata ben tre giorni in stallo prima di ricevere l'autorizzazione ad attraccare in un porto italiano. Malta si è rifiutata e li ha respinti. A Reggio Calabria i 232 migranti sono stati accolti invece dagli uomini e le donne della prefettura, delle forze dell'ordine, dai volontari della protezione civile e della Croce Rossa. Situazione complessiva da un punto di vista sanitario molto buona. I medici mi hanno dato conferma che non abbiamo difficoltà come spesso è accaduto nel passato e quindi tutta la procedura di accoglienza sta andando molto bene e sostanzialmente in giornata li collocheremo nelle strutture. Sea-Watch ha soccorso da un primo gommone persone per lo più di nazionalità sudanese dopodiché ha assistito percorrendo 90 miglia marittime un mercantile che aveva a sua volta soccorso altre persone. È stato richiesto il supporto di Malta che è stato rifiutato se non per ciò che riguarda evacuazioni mediche aeree. A Sea-Watch è stato dato istruzione di andare verso nord e tuttavia Sea-Watch non aveva più un porto di sbarco che è stato attribuito solo dopo diverse ore di navigazione circa 24 ore fa, ora di pranzo circa di ieri 8 giugno. Quindi ci chiedevamo che cosa stesse succedendo, come mai fosse così difficile avere un altro porto di sbarco attribuito dopo che invece era stato inizialmente attribuito dopo un paio d'ore dal primo soccorso. Insomma siamo contenti che questo porto ci abbia dato accoglienza. Angela Panzera per la Cineus 24